La govoni si aggiudica in 12 secondi i 100 metri piani. Dopo un 11 e 9 stabilito nelle semifinali. Nel salto triplo Cavalli con metri 15 e 43 conquista il titolo di campione d'Italia. Nei 110 ostacoli vince Cornacchia con un discreto 14 e 3, secondo e mazza. I due rivali dopo la gara tornano ad essere buoni amici. Berruti ritorna alla vittoria nei 200 piani. Ha vinto bene, forse per questo la Fidal lo ha squalificato.